ciao a tutti da crista tg il salutatore del blog grandissima sorpresa quinto gambi grazie a tutti quanti da come mi trattate ecco lui è grande emozionato ha visto il gruppo dedicato a lui su facebook ea questa dedica per voi a tutti quanti già un bacione grandissimo quinto un saluto a tutti gli amici su facebook youtube myspace twitter tutti i social network che ti seguono su internet sulla rete e lui adesso approfitta è un grande la persona emozionante ciao a tutti ciao 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 grande abbiamo fatto